Hai sicuramente focalizzato un elemento, quello della risposta di carattere e sostanza che poi si è tradotta in 23-21 per voi, poi in un primo match ball annullato e poi sappiamo bene come si è concluso il terzo. Da questo punto di vista quindi veramente è una fase importante questa della gara, non è semmai si possa isolare, sminuzzare quello che è un unico. Sì, noi abbiamo una squadra, noi scherzo sempre, ma con le ragazze siamo una squadra che hanno un caratteraccio, è una squadra coriacea, è una squadra rognosa, così ci hanno definito, noi scherzando, lo dico sempre, è una squadra divertente da allenare, ma è una squadra tosta, è una squadra ambiziosa. Quindi trasformare quell'energia in carattere e incanalarla bene verso l'avversario senza essere anche eccessivamente severi con se stessi, perché poi quando hai questo carattere è facile veicolare messaggi negativi anche all'interno del campo. Invece stiamo maturando tanto da questo punto di vista e nell'incanare questo carattere veramente aggressivo verso gli avversari e verso anche la tattica. Adesso lo stiamo facendo in maniera molto agonistica e perdiamo a volte di vista delle cosette da fare in campo perché sono fondamentali per vincere. Arriverà il momento in cui faremo tutte e due le cose bene ed è per questo probabilmente che andiamo un po' a strappi, a volte siamo un po' in risposta. Poi quando siamo indispettiti c'è un po' questa tendenza a lavorare nella risposta a trovare una situazione di difficoltà, che è una qualità.